vi faccio vedere ora uno dei tanti prodigi della natura questa è una fontanina che ho più volte ripreso che è stata fatta dalla forestale da in mezzo a un bosco guardate la scultura che ha creato la natura una cascata di ghiaccio l'acqua scende qui la temperatura d'inverno di notte cioè è andata sotto una decina di gradi la faccio vedere ancora un po più da vicino guardate dove è ancorata è ancorata nella parte vicino al legno che è risalito risalita lì e poi da qui si è allargata e guardate che massa di ghiaccio che ha creato questo è un prodigio nella natura